Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Finalmente sono qui per parlarvi di Miss Marvel, con spoiler, perché essendo una di quelle serie che escono settimanalmente, in questo caso su Disney+, come sempre ne parlo, ha uscito l'ultimo episodio, quindi in questo caso il sesto, con spoiler, perché se siete qui vuol dire che comunque avete visto o la maggior parte degli episodi, o comunque tutti, e quindi voglio andare dritto al punto con questi video recensione di prodotti in uscita settimanalmente. L'ho fatto con le serie Star Wars, l'ho fatto con le altre serie Marvel, l'ho fatto anche con The Boys, tutte queste recensioni ovviamente le trovate sul canale, ma oggi sono qui finalmente appunto per parlarvi di Miss Marvel, l'ultima serie Marvel, chi l'avrebbe mai detto, in ordine cronologico naturalmente perché le prossime saranno I Am Groot, in uscita tutta, perché è una serie di corti, il 10 agosto, e mentre il 17 agosto settimanalmente arriverà She-Hulk. Prima di iniziare però con la recensione, come sempre vi invito a seguirmi su tutti i social, link in descrizione, Instagram, Twitter e TikTok, tutto in descrizione assieme al link di Pampling, codice Il Pensiero 4 per avere un paio di calze gratis a scelta, che appunto essendo gratis vi costeranno 0 euro perché sarà un regalo del sito e del mio codice, e vi ricordo anche che in descrizione ci sono anche i miei consigli per gli acquisti oltre Pampling, come il Fantasia Store, dove c'è il codice Andry5 che vi darà il 5% di sconto su tutti i prodotti non già scontati del sito. Ma adesso parliamo di Miss Marvel, ripeto, con spoiler, perché ho qualcosa da dire, non so quanto sarà questo video, non so quanto durerà, ma penso che dovrò parlare per un po'. È inconfondibile il logo che si trova sulla miniatura di questo video. Naturalmente non sto parlando di quello della serie Miss Marvel, ma sto parlando di quello di Disney Channel. Poi magari questa sarà una gaff perché così col tempo mi verrà voglia di cambiare la miniatura e non ci sarà più il logo, non lo so. Comunque in questo momento c'è il logo di Disney Channel. E perché ho messo quel determinato logo? Beh, perché semplicemente, da come si poteva intuire anche dai trailer, questa serie sembra molto un qualcosa uscito da Disney Channel. O meglio, lo sembrava con i primi tre episodi, con qualche spizzico di qualche altro episodio successivo. E sapete qual è la parte più divertente, la parte più bella? Che la serie era molto meglio quando sembrava qualcosa uscito da Disney Channel. Quando è diventata un prodotto di Disney+, come le solite serie Marvel, per quanto mi riguarda ho rivalutato molte serie MC uscite in questi due anni, in quest'anno e mezzo in realtà. Finora quella che continua a piacermi molto è WandaVision, ma non tanto per la serie, però per quello che ho provato guardandola, comunque l'attesa che c'è stata da Far From Home appunto all'inizio della fase 4, l'attesa che c'era settimana per settimana è qualcosa che non ho provato più con le altre serie, quindi WandaVision mi è rimasta un po' impressa. E difficilmente, almeno in questo momento, potrei rivalutarla in peggio. Però le altre serie, beh, sta succedendo un po' così. Non attendevo Miss Marvel, non me ne poteva fregar tantissimo in realtà. I trailer non mi avevano convinto al 100%, mi avevano fatto un po' salire l'hype, l'interesse per la serie, ma non così tanto. Ma quando poi è arrivato il primo, e diciamo anche il secondo episodio, una settimana dopo, mi sono appassionato alla storia e soprattutto ai personaggi, cosa che non succedeva da tanto. Sto parlando soprattutto, ripeto soprattutto, per i personaggi secondari. Ho odiato fin dall'inizio le persone stupide, lasciatemelo dire, che solo perché dal trailer sembrava qualcosa magari di indirizzato più a un pubblico di ragazzini, perché alla fine Miss Marvel è questo, hanno iniziato fin da subito, nemmeno avendo visto il primo episodio, a buttare merda sulla serie. Ed è una cosa che non apprezzo quando è per partito preso. Ed ecco cosa io leggevo o sentivo tra le righe di queste parole o di questi articoli. Buu, la Marvel è qualcosa per adulti, non è per bambini come questo schifo di Miss Marvel dal trailer. Non è per bambini, è qualcosa di più cupa, di più adulta, qualcosa di più spaventosa. Moon Knight, per esempio, quel personaggio fantastico che ha degli episodi stupendi, che ha una storia magnifica, che ha una serie di merda sostanzialmente. Però sfortunatamente Miss Marvel, che sembrava la luce della ragione in quel momento, ovvero una serie finalmente decente, all'interno del catalogo Disney Plus Marvel Cinematic Universe, Ecco, dopo metà del terzo episodio scende. E scende perché smette di essere quello che avrei voluto da una serie del genere, una serie di Disney Channel. Diventa una solita serie MCU, diventa qualcosa che abbiamo visto e rivisto, soprattutto la struttura degli ultimi episodi. Il quinto episodio è l'episodio flashback, che ormai c'è da quante serie, non ricordo. Allora, Moon Knight ce l'ha sicuramente, perché il quinto episodio, che poi nemmeno così bello era, appunto essendo Moon Knight, dell'ospedale. Poi WandaVision, quella che mi ricordo sicuramente, c'è Agatha che fa ricordare le robe a... appunto a Wanda. E poi non penso ci sia in altre serie, ma sicuramente fa strano vedere che il penultimo episodio di queste serie è quello flashback. Soprattutto nei casi che ho detto. Ora, magari se c'è qualche altra serie, non ricordo, non la vedo da un po', forse in Loki c'era qualcosina? C'erano molti flashback su Sylvie da piccola, probabilmente, fatemelo sapere con un commento. Ecco, fa abbastanza ridere che il penultimo episodio in ogni caso sia quello flashback, quello del passato, dei ricordi, eccetera, eccetera. Anche qui c'è, infatti. E abbiamo un veloce sguardo alla vita della bisnonna di Kamala. Veniamo a scoprire che è stata Kamala a salvare la nonna, a salvare lei portandola dal padre con quelle stelline luminose. L'avevo previsto. Era super prevedibile già dal primissimo momento in cui vengono citate queste stelline. Ma dove sta l'enorme problema di questa serie, a parte il cambio di direzione verso la metà del terzo episodio, che la rende qualcos'altro, anche a livello registico e di fotografia, in realtà. E anche qualche scelta stilistica, per esempio i messaggini qua e là che compaiono, beh, quelle vanno letteralmente scomparendo. C'è qualche messaggio ogni tanto, ma è un messaggio di una chat stampato sul finestrino. Proprio con il messaggio, non tutte quelle cose fighe che mi piacevano. Due, tre episodi, non ricordo se nel terzo ci fossero queste cose. Il più grande problema di questa serie, dopo il terzo episodio, sono i personaggi comprimari e antagonisti. I Jin, che giocano un ruolo da antagonisti villain in questa serie, ma soprattutto i pugnali rossi. Questi due gruppi sono totalmente insensati, sono odiosi almeno per quanto mi riguarda. Cosa contraria invece per i personaggi comprimari, per i personaggi secondari, della vita fuori Pakistan, quindi la famiglia, gli amici. Però non mento dicendo che ho odiato i Jin e ho odiato i pugnali rossi. Soprattutto i personaggi principali di questi due gruppi. Quindi il ragazzo, non ricordo come si chiami, assolutamente, e la tizia, non ricordo come si chiami, scusate. Fortunatamente i Jin muoiono tutti, a parte Kamran, che è il secondo interesse amoroso. Poi ce ne sono tre di interessi amorosi, ma vabbè, è una ragazza. Anche Peter Parker è un po' strano sotto questo punto di vista, ma perché sono appunto ragazzi, quindi ci sta. Kamala sembra interessata a tre ragazzi, Bruno, Kamran e il tizio idiota dei pugnali rossi. Dicevo, muoiono tutti i Jin, a parte Kamran, che prende i poteri, simili a Kamala, e prendo la palla al balzo per parlarvi del damage control, perché sono altri personaggi antagonisti a Kamala, sono altri personaggi villain, se vogliamo chiamarli così, anche se in realtà è solo una quella che organizza questi assalti. Ecco, nonostante non siano chissà che grandi antagonisti, chissà che grandi villain, anche se sono più antagonisti che villain, essendo della più o meno polizia, non sono esattamente polizie, viene detto anche nel sesto episodio, però ci si avvicinano. Come antagonisti non sono granché, però avrei nettamente preferito loro per tutta la serie, invece di vedere questi Jin e robe varie, anche perché Miss Marvel, a parte che ci sono comunque i poteri, si è molto diverso da Hawkeye che sembrerebbe più street. Nonostante questo avrei voluto uno stile più street anche in Miss Marvel, cosa che comunque ho avuto fino al terzo episodio, e mi è piaciuto proprio per questo. Poi inizia tutto il fattaccio dei Jin, del fatto che lei, Kamala, è una Jin a sua volta, quindi ha dei poteri discendenti da una famiglia, lei torna indietro nel tempo, robe varie. E proprio per questo non mi è piaciuto. Volevo che tenessero lo stile delle prime tre puntate. Non sarebbe piaciuto a coloro che guardando un prodotto Marvel si vogliono sentire adulti e quindi se c'è qualche sbocco infantile o per bambini si scandalizzano? Fattacci loro. Sinceramente è meglio di avere un'altra copia fallimentare delle serie Marvel. Cosa che Miss Marvel, sfortunatamente, è diventata dopo il terzo episodio. Nonostante tutto interessante il fatto che non abbiano mai voluto citare gli inumani totalmente. Nel terzo episodio c'è la tizia a capo dei Jin che continua a dire tu sei, ci chiamano, ci chiamano in questo modo, ci chiamano in un altro modo, ma i inumani non lo dicono. E non lo dicono per un motivo, due in realtà. Il primo è che Kevin Feige, capo della Marvel, capo supremo della Marvel, odia gli inumani, soprattutto dopo che il tizio, non ricordo il nome scusate, che era capo di Marvel Television, insisteva per inserire gli inumani della serie nel Marvel Cinematic Universe, gli inumani non faranno parte di quest'universo. E dico universo perché magari nel multiverso qualche altra comparsa la faranno. Il secondo motivo è che a quanto pare Kamala Khan è il primo mutante del Marvel Cinematic Universe dichiarato. Infatti una delle poche cose ma buone del sesto episodio è che, proprio nelle ultime battute, nelle ultime scene, quando è tutto sistemato, quando Kamran è arrivato in Pakistan, quando è finito tutto, lei ha il costume, si chiama Miss Marvel, ma di questo ne parliamo dopo, Bruno dice all'amica che nel suo gene c'è una mutazione. Ma la cosa davvero interessante, che mi è piaciuta molto, è che sotto c'è un motivetto. Il motivetto degli X-Men. Quindi a tutti gli effetti gli X-Men, i mutanti in generale, sono già nell'MCU. Ora, non so come metteranno giù questa storia, non so come lei effettivamente abbia avuto delle mutazioni, magari è stato il bracciale, una cosa che non apprezzo così tanto, però devono pur trovare una scusa. Ora magari se ne escono fuori con il fatto che i gene che abbiamo visto finora erano tutti mutanti, però ho apprezzato il fatto che al posto di farla inumana, Kamala, Miss Marvel, qui è appunto una mutante. Anche perché c'è il giochino che nel passato, prima che succedessero tutti gli imbrogli, tutti i problemi tra Kevin Feige e il tizio di Marvel Television, proprio Kevin Feige voleva inserire gli inumani al posto degli X-Men, perché non potevano, visto che erano sotto diritti della Fox ai tempi, tanto tempo fa. Ai tempi gli inumani sarebbero stati gli X-Men della situazione del Marvel Cinematic Universe, invece adesso Kamala Khan, Miss Marvel, che è sempre stata un'inumana nei fumetti, qui è una mutante. Non penso entrerà a far parte degli X-Men, perché penso vogliano tenere i due gruppi separati, ci saranno mutanti ma che non saranno negli X-Men. Probabilmente useranno la stessa scusa in realtà con Monica Rambeau, che probabilmente si farà chiamare Foton e che comparirà in The Marvels assieme a Carol Danvers e a Kamala Khan. Anche lei ha avuto effettivamente delle mutazioni, quindi anche lei potrebbe essere una mutante. E vorrei anche esagerare, potrebbero dire persino che anche Carol Danvers è una mutante sotto sotto, visto che anche lei comunque ha avuto delle mutazioni genetiche a causa del Tesseract, più che del Tesseract in realtà della gemma dello spazio. Tornando alla formazione di Miss Marvel, sinceramente avrei preferito vederla prima, invece di farla chiamare per tutta la stagione Light Girl, non ricordo, Black Light, una cosa del genere, comunque totalmente diverso dal nome che dovrebbe avere il personaggio, però non mi ha dato fastidio il fatto che diventi appunto Miss Marvel solo nel senso episodio, anche perché il momento in cui comunque si vede con il costume per la prima volta è interessante, il costume mi piace, la CGI un po' meno, quando vola, più che vola, usa come pedane la sua magia in cielo, però la CGI è un po' me per tutta la serie in realtà, ma il costume e la presenza scenica è interessante. Non so come abbia fatto la madre a farlo in due giorni e nemmeno probabilmente, ma chiudo un occhio. Il nome invece viene dalla parte del padre, quindi mi piace proprio il fatto che per la creazione di questa Miss Marvel la famiglia sia stata davvero importante, il costume è da parte della madre, il nome è dalla parte del padre, proprio perché Kamala, Kamal, in urdu se non sbaglio, significa meraviglia. Meraviglia, tradotto in inglese, Marvel, Miss Marvel. Passiamo velocemente alla post-credit, anche se non vorrei parlarne tantissimo, visto che oggi dovrebbe anche arrivare il finale spiegato di Miss Marvel, quindi un altro video sulla serie. Dico solamente che è strana come post-credit, non ne voglio parlare né in modo positivo né in modo negativo, perché non se n'è capito nulla, ma penso che tutto, ma penso ovviamente che tutto sarà spiegato in The Marvels, quindi Captain Marvel 2, che arriverà ad agosto, se non sbaglio, agosto 2023, non 2022. Non lo attendo così tanto, il personaggio di Miss Marvel, Kamala Khan, non mi è piaciuto al 100%, ma non mi fa schifo. Interessante anche il livello recitativo di Iman Vellani, che essendo alle sue prime armi, davvero il suo primo prodotto, fortunatissima iniziare col Marvel Cinematic Universe, però è stata tutto sommato brava, a parte qualche volta che qualche sguardo alla camera c'è stato, però appunto è la sua prima prova importante da attrice, ci può stare. Sono curioso di capire cosa effettivamente sia successo, anche se ho già una mia idea, ma ne parliamo poi nell'altro video, quello della spiegazione del finale, che probabilmente uscirà oggi, molto probabilmente uscirà oggi, ma in caso uscirà domani. E niente ragazzi, prima di concludere questo video do come sempre un voto al prodotto che recensisco, ed il voto per Miss Marvel è un 6. Aveva davvero del potenziale come serie, ma dopo il terzo episodio, dopo metà del terzo episodio, dopo la prima metà del terzo episodio, diventa qualcos'altro, è qualcosa che non mi ha fatto impazzire più di tanto. Il sesto episodio lo salvo per metà, per alcune rivelazioni, per alcune scene interessanti, ma non al 100%, quindi lo metto per metà, tra quelli piaciuti e tra quelli non piaciuti, però il quarto e il quinto sono qualcosa che non ho apprezzato, soprattutto per i personaggi secondari, appunto i villain, e il tizio dei Red Dagger. Quanto sarebbe stata bella questa serie se fosse stata per tutto il tempo, come i primi due episodi, o i primi due episodi e mezzo? Ma ragazzi, fatemi sapere con un commento qui sotto cosa ne pensate, potete tranquillamente fare spoiler, visto che il video intero è spoiler, perché appunto, ripeto, faccio sempre così per le serie che escono settimanalmente. Vi invito come sempre a seguirmi su tutti i social, link in descrizione, Instagram, Twitter e TikTok, vi ricordo che in descrizione trovate anche il link di Pampling del Fantasia Store, rispettivamente ci sono i codici ILPENSIERO4, che vi dà la possibilità di scegliere un paio di calze, inserirle nel vostro carrello e vi costruiranno 0 euro, essendo un regalo del sito e del mio codice, e per il Fantasia Store il codice ANDRI5, che vi dà il 5% di sconto su tutti i prodotti non già scontati dopo esservi registrati. Entrambi i codici sono illimitati, potete usarli tutte le volte che volete, per sempre. E niente, vi ringrazio per aver visto il video fino alla fine, io sono Andri, questo è stato un altro mio pensiero per voi, noi ci vediamo in un prossimo video, sempre su questo canale, Andri passa e chiude. Ciao!